Abbiamo incontrato per tre volte i terroristi dove si obbligavano a pagare per poter attraversare La cazzo non si fosse pagato venivano fatte delle torture che molti hanno subito perdono la vita C'è una settimana nel deserto, una settimana nel deserto Non mangiare ne 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 mangiare Non. Ho visto persone dieci. Ho visto anche le camminare, dieci, daci, 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 daci. Inso il mio pollo, molte persone matavano. Anche l'engino, l'engino che stanno usando per fare il suo pollo, l'engino che si fai all'inzio nel mare La luce era molto più forte Mi pensavo che stia a morire perché ero sotto il pollo, sotto la zona e le persone stavano sui suoi. Mi sembrava dire, come Dio? Dio, dovrei morire? Jesus Christ, cosa succede alla mia vita? Cosa succede alla mia amici? ma io un gol Grazie a tutti.